Il distacco dei falsi beni terreni è compensato con sovrabbondanza di gaudio anche in questa vita. E infatti, siccome il vizio forma qui in terra, ai miseri suoi seguaci, un grave tormento di amaritudini e di noie, prima ancora dell'inferno, così all'incontro la virtù non è si tarda a premiare i suoi nobili amatori, che aspetti in cielo a coronarli di gloria immortale, ma sparge intanto di anticipate delizie tutta la loro vita, nutrendola di speranze soavi e di piaceri puri. Tu, forse, che sei uso mirare la vita mortificata e virtuosa come melanconiche e triste, non presti fede ai miei detti. Io non mi meraviglio. Chi è infermo crede che il vino sia amaro e la musica noiosa, mentre chi è sano ne sente gusto e ne prova dolcezza. Finché Agostino giaceva nel lezzo dei suoi piaceri, lo conferma egli stesso che gli pareva impossibile poter vivere, nonché trovar conforto fuori di essi. Ma poiché ebbe generosa risoluzione, privato le sue passioni di quei pascoli immondi, o quanto è lui stesso che parla, o quanto mi riuscì, tosto, soave, l'esser privo di quelle vane suavità, e quelle che poc'anzi aveva temuto di perdere, già mi era gaudio lasciare, poiché tu, o mio Dio, vero e somma suavità, le scacciavi da me. Tu le scacciavi ed entravi tu stesso nel loro luogo, più dolce d'ogni piacere. A questo santo tu puoi ben credere, poiché, dopo aver provato la molestia della malattia, a lui si rese ancora più evidente la dolcezza della salute. Concludiamo, adunque, se la privazione di un bene, di un piacere vilissimo, è compensata non solo con un eccesso immenso di beatitudine su in cielo, ma con sovrabbondanza di gaudio anche qui in terra, quale sarà la stortezza di chi delibera di non volersene privare, anche a costo di perdere per sempre la futura sua perfetta e ultima felicità.